Sì, adesso puoi perdere le posizioni. Perché sono troppo avanti? Non sempre, sì. Bene, fai solo questa passata, adesso ti mostro cosa devi fare poi. Ti toccano, ti ridrezzi, hop hop, e passi. Hop hop, bene, non fai niente, solo passi. Con il petto devi scendere, non dimentica, non mi scelgo questa cosa. Ogni tanto, vedi, io da qui, hop, ok, ti butto via, ti metto la laterale, poi continuo. Per quello deve essere abbastanza equilibrato. Ok, ok, ho capito. Fai te. Fai, vedi? Tranquilo. Sì. Sì, se te, se ti ridrezzi, si vede. Hop, vedi? Vado fuori. E, vedi, vedi? Rimane, sei dimostro. Vai tu, ancora una volta. Di qua, alzati, hop. Io sono qui, vedi? Sì. Poi, per controllarti, posso ristirire questa gamba. Sì. Invece non vado su con tutto il corpo. Guarda, hop, e questo. Vedi? Sì. Vedi? Sì. Ancora un'altra, sì. Io sono qui, alzati, sì. Guarda, o da qui, o da qui. Sì, vedi? Guarda, io ti controllo solo con una gamba. Qua ti piace la tua spalla, alzati. Vedi? 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 Un'altra, non lo faccio. Vedi? E poi ti posso subito qua. Solo una gamba. Io passo. Hop. No qui. E tu magari no. Hop, hop. Vedi? E basta. Hop. Ora cosa faccio. Ora qui. Vedi? Sì. Sì. Piaccio tua spalla. Tien piano. Vedi? Ancora questo posso prendere. Vedi? Vedi? Spalla. Posso controllare gamba. E sto toccando. Sapito? Fai questa cosa. Pis, sambo, terra, parterre, jiu-jitsu, marshalat. E tu devi buttare le gambe indietro e con il petto coprirmi. Hop. Sì. Sì. Io mi alzo. Vedi? Io mi alzo un cazzo che posso fare. Ah, ok. Però deve essere ancora più di là. Oh. Vedi? Qua spingi mia gamba. Congiro. Oh, pianta. Vado. Hai capito? Sì. Però deve essere ligerissimo. Sì. Ok, adesso provrò a fare ligerissimo. Sì. Fai solo questo gancio. Vai subito indietro. Subito vai indietro. Una volta sinistra, una volta destra. Ah, ok. Vai. Hop. Sì. Ginocchio. Spetta. In questo modo e vai di là. Tutto equilibrio. Vedi? Vai. Hoppa. Cazzo. Vieni, vieni, vieni. Fai, 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 fai. Fai, fai, fai. Fai, fai, fai. Fai morbido. Vedi? Piano. Morbido, destra. Morbido. Cosa sento qua? Il video di colone, le tura. Si gira. Si, i muscoli non sono forti. E, fai tutto. Fai piano, non fai bruscoli. Fai piano. Fai da l'altro, fai. Fai piano. Ti ho passato di là. Cirisci. Hop. E, qua. Aspetta, devi attacarti con il ginocchio. E dentro un pochissimo. Dentro il ginocchio. E vai con equilibrio di là. Oh. Adesso non fai un cazzo, basta che stai con uno spoiler. Fai, solo queste cose. No, fai, no, fai. No, fai, no, fai. Cazzo, mi stanco. Ahah. Mi stanco tantissimo. Adesso. Senti cosa c'è, adesso attaccati come volevi, con due braccia. Ahah. Mi fai vedere come ti fai cadere, scuotere. Si. Attacati con due, con due. Con due, con due. Vai. No, 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 è destra, è destra. Si. Guardate. Ui. Cosa sente? E se riesco a rubricciarti. Ma no, vai, vai però. Eh, si. Vedi? Hai capito? Non controlli così forte come prima. Hop. Piano, piano. Fala. Hai capito? Adesso vai fu giù. Vedi? Niente forza, non dè. Questo è normale, mezzo. Tecniche di, i'm joining you. Vedi cinque, vitoare zero peri. Fala. Hop. Grazie.